Finalmente il Trentino, una giornata stupenda, abbiamo fatto un bel po' di camminata, siamo arrivati praticamente alla fine del sentiero battuto, questo è il torrente Sarca e arriva fin giù a Pinzolo. Ecco qua, i nostri compagni di viaggio, Argo e Rosi, siamo nel parco naturale della Damelle del Brenta, giù là in fondo che si vede il Brenta, guardiamo con lo zoom cosa si riesce a vedere, quello è il Brenta, la Damelle poi lo filmo in un'altra posizione perché adesso c'è davanti una pineta e non riesco a spuntare, praticamente la direzione è esattamente proprio dietro quel rifugio lì, quella casa lì, si vede la Damelle. Grazie. Grazie.